Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi dopo tanto siamo tornati su Clash Royale con l'arrivo della nuova stagione siamo tornati su questa vecchia serie allora, ero alle 5.000 poco fa, poi ho fatto una partita e sono alle 5.030 ora, il record di questa stagione o l'ho fatto ora oppure... sì, il mio record precedente, ovvero quello fino a ieri, perché nonostante non siano usciti i video io comunque in questi mesi ho giocato a Clash, questo è tra l'altro il mio secondo account ero arrivato ieri a 5.027, poi mi ero fermato ora, facendo una partita, sono arrivato a 5.030 e quindi ho già superato volendo il mio record ma oggi faremo delle partite 1v1 con Saverio del canale quindi partiamo con, direi perfetto, una battle 1v1 tanto, volevo usare il mazzo ma tanto lo vedrete ora allora, il mazzo è questo qui, ve lo spiego buona fortuna, ringraziamolo poi tra l'altro ho preso anche un po' di provocazioni non ho mai sciuppato ragazzi comunque, partiamo ah, io conosco bene il mazzo di Saverio, usa la scintilla il mio mazzo è un po' strano, ok? però, insomma, può essere funzionale come no ragazzi in genere, insomma, vedo che a volte funziona quando si trova il counter c'ha carte molto, che fanno molti danni perché c'è il bottaniere, il pirotecnico, fanno molti danni però, sono abbastanza squishy c'è, barile d'ossa, c'è il bottaniere, gang, goblin, pirotecnico con delle frecce, volendo, le butti giù facilmente ok diciamo, tra l'altro questo è il mio mazzo che è stato da me e il fulcro d'attacco del mio mazzo è barile d'ossa, cioè parti con la trivella nel mentre, subito dopo che l'ho fatta partire piazzo il barile d'ossa in cima ora qui sto spiegando l'isile, sbaglio infatti eccovi la scintilla, quella che vi dicevo prima infatti io tirerò una trivella qui per depistarla ecco, se avessi avuto il barile l'avrei tirato però anche, ovviamente, il barile non ce l'ho e ci tocca fare in questa maniera ok, bella roba che vengono distratti da quelli eh, però se non viene buttata giù eh, che Christian De Sica, madonna eh, ragazzi, la scintilla rompo un po' le balls però in teoria in teoria eh, che cane eh, vabbè eh, vabbè, ragazzi tra pochi secondi ci sarà il il per due di Lisir non mi riva vabbè, ragazzi, io ci riprovo che vedevo di che vedevo di vediamo attenzione attenzione eh, no, le frecce c'è sempre qualcosa per counterarmi incredibile ok, qui una bella tornata non le la toglie nessuno buono, buono niente però riesce comunque a counterarmi però le frecce in teoria la usate eh ok potrei andarmi meglio senza dubbio ma potrei anche andarmi peggio niente abbiamo un po' andato un po' a quel paese dissaliamo la la cosa la scintilla tornado che mi togli Goblin e infligge un po' Daniela Sega però penso che questa partita se la giudichi Saverio eh sì che poi in realtà sarebbe il contrario come vi ho detto sarebbe Trivella più Barile d'ossa non il contrario però attenzione 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 qui ho sbagliato perché penso che la scintilla fosse ancora girata eh vabbè vabbè GG GG questa sera giudichi Saverio però oltre agli 1v1 classici vogliamo fare qualcosa di particolare tra l'altro poi domani uscirà poi invece il video ehm no non questa che non mi piace ma ma mazzi classici c'è no esatto uscirà un video sempre con Saverio ma ehm 2v2 quindi mazzi classici noi c'è un gigante royal pescatore buona fortuna grazie bla 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 allora intanto c'è stato recentemente una sfida con con questa ehm con questa modalità e tra l'altro ho anche vinto ma vabbè ah il boscaiolo ce lo togliamo in teoria in questa maniera mh potevo anche evitarli però il cacciatore qui ha fa un bel po' di danni potevo piazzarlo anche meglio però vabbè per ora siamo in vantaggio dentro vabbè vabbè volevo aumentare la la luminosità dello schermo che è un po' bassa però vabbè semmai sarà per il prossimo video ehm qui sto spiegando l'isir e non va bene allora lui ci ha buttato il golem quindi ha spiegato 8 noi abbiamo allora un po' più di margine di elisir ora non più potevo usare una serinfocata ma ecco già la serinfocata qui ha più senso mh hai idea di mettere il pescatore qui non sono un progamer eh lo dio però infatti si vede che non sono oddio 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 facciamo così magari il coso dell'ospedale della cura non me l'ha ucciso peccato e niente questa è torre peccato perché avevo delle buone intenzioni ma non sono andate a buon fine perché quel drago d'osso se n'è andato no dai ah poteva anche servizi per la ripartenza ma niente però qui si mette il cacciatore sotto al cucciolo tipo forse lo one shot madonna ragazzi il cacciatore da vicino scioglie scioglie di brutto vai eh peccato peccato va bene c'è un 3 questo quanto fa fa 72 non basta però non ti ries gigante royale vediamo eh oddio sono ancora vivi vai gigante vai gigante ti prego vai perfetto perfetto eh piangi stavare piangi bella sta sta provocazione ah io c'ho la fulmine e bsbam ok ah non si punta il corone perché è uno spreco piuttosto puntiamo alle due corone va riuscire il mega sgherro madonna che predict ragazzi che predict no sopravvivi muori ok buono 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 qui mettiamo il cacciatore che forse ho sbagliato la piazzale perché esatto è nittato dalla torre centrale però muore quello bello il boscaiolo morto attenzione possiamo recuperare possiamo recuperare direi di piazzare questo qui pescatore di qua no che sbagliato cioè il golem lì mi regala la torre ok ok bella partita bella partita un altro mazzo che mi piaceva usare era questo qua ora questo mazzo andiamo nell'1v1 classico stavolta questo mazzo si basa simile a quello di prima però me lo consigliò un mio amico tipo qualche mese fa per le 2v2 questo qui se entrambi i giatori hanno questo mazzo non dico che vincete sempre però molto divertente anche dal 1v1 ma soprattutto in 2v2 c'è fate certi ammazzi di scheletri che fra poco vedrete allora non mi aggirate neanche bene però se vedete le carte che mi stanno apparendo forse potete immaginare qual è la combo principale di questo mazzo potrei evitare però insomma non ve lo prendo le danni alla torre allora piazziamo una tower infernal vedete anche infernal tower piazziamo una gas gher perfetto vi ricordo che lui c'ha il mazzo che avete visto prima con la scintilla allora e qui mi tocca usare la specchia sul mega sgher dai perfetto ah per ora lui non mi ha ancora toccato la torre però non ha ancora usato la scintilla ole bella mossa questa vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere beh li prendiamo le hit forse era meglio difendere forse era meglio difendere proviamo un po' a fargli sprecare il lato lonco se ce l'ha buono però a noi ci serve la la specchia ok la specchia è tornata quindi ora lui probabilmente fra poco mi parte con la scintilla allora diciamo iniziamo a preparare il nostro attacco di questo mazzo ok tra l'altro tra poco esatto me l'aspettavo ora in teoria lui l'edificio non ce l'ha in teoria in pratica lo scopriremo ok ecco qui barile barile specchio ragazzi questa è la combo sgravata più o meno di questo mazzo che mi ha fermato perché c'ha le frecce mannaggia lui però vi assicuro però non ti faccio passare caro vi assicuro che anche solo se i barili arrivano a torre e si schiantano già quelli sono parecchi danni ora di preciso non so quanto fa lo schianto del barile arrivato a torre però vi assicuro che non sono pochi queste frecce usate lì a noi ci vanno più che bene perché usandole lì non le può usare per la nostra combo no quindi facciamo così facciamo così facciamo così cloniamo e questi ragazzi sono big 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 danni perché vediamo tac 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 spacchiamo la scintilla guardate quelli scheletrini che comunque ci portano piano piano al vantaggio facciamo una principescia per pulire non ci ha preso questo che a noi va molto bene altra tower infernal buttiamo adù buttiamo adù ok che mi ha preso la strega molto bene molto bene qui facciamo un mega sgherro ok ok va bene prendiamo qualche hit ma non ce ne frega più di tanto lui è ok barri ed ossa non ci va bene barri ed ossa ci va molto bene lui l'ha già però sbagliate ragazzi questa non dico che è torre però se mi avessi avuto le frecce si è la torre però qui il tronco perché ora è rotto con questi goblin pensiamo a un mega sgherro qui degli scheletrini ok mi hanno buttato giù quella perfetto ok adesso torre infernale per girare un po' il mazzo poi usiamo la principessa però stiamo vincendo ma nulla è ancora detto ok togliamo tutti questi scheletrini no 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 girati girati no 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 dai no vabbè dai questa ragazzi mamma mia che fortuna poi ripartivamo ripartivamo in eh guarda se ne facciamo un'altra per la rivincita perché ragazzi questa è proprio immeritata secondo me è è stata immeritata ragazzi allora lui sa la combo tra virgolette di questo mazzo quindi non c'è l'effetto sorpresa però dopo di questa facciamo un po' un altro mazzo classico ora si vede oppure facciamo una tripla strategica e una carta in tavola ok possiamo farlo se ci mettete anche ah orca 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 e vabbè niente ragazzi scossa è quell'altro ovviamente è un po' un counter perché c'è doppie carte che mi counterano però diciamo che ci siamo dei difetti cioè abbiamo li abbiamo fatto alla fine tanti danni se ci pensate perché 1824 ora c'è la torre qui usiamo per forza di cose questa vai già si ma distrugge tantissima roba vai buttami giù la strega perfetto siamo ancora in vantaggio no non è vero non siamo in vantaggio però potrà farci molti più danni con la scintilla e la strega mettiamola così ma siccome non voglio sprecare gli scheletrini facciamolo con la principessa a noi ci sta bene perché così con la nostra con luce fra solo la zap e la strega come difesa ok qui mettiamo probabilmente mi usa la zap se la usa tanta roba oddio da una parte no però tronco ho usato troppo tardi lo so però in effetti ripresando 19 l'ho usato perché peccato peccato ho sbagliato e vabbè allora però la zap lui non ce l'ha facciamo la nostra tattica famosa la scintilla ci va bene la scintilla ci va bene tra l'altro io anzi nel mio mazzo ho le carte a livello cioè il bari d'os a livello 12 che per me che non sciopo che per me che non sciopo è troppa roba infatti il bari riesce che ho di usarli in ogni mazzo perché essendo la carta più alta del mazzo insomma vedete bene di di oddio per l'altro pensavo mi intassi la torre mamma mia allora piazziamo un tronco torre infernale ah gg la principessa la dovevo piazzare un po' più indietro porca miseria porca miseria porca miseria porca miseria un botto di scheletrini un botto di scheletrini niente torre fatta torre fatta no buono no buono per niente qui ho pure sbagliato la clonazione eh questo ragazzi mi costa questa clonazione sbagliata mi costa e non poco e non poco decisamente non poco e mi sa che ho riperso ragazzi mi sa che ho riperso perché il mazzo di saverio è abbastanza infame perché c'ha quelle caspita di scossa di zap e niente ora o mai più ora o mai più per forza ci provo madonna no non ce l'avevi fatta comunque peccato peccato il mazzo di saverio ragazzi ci spacca ci spacca perché zappa e frecce ci scannano male allora facciamo l'ultimo due partite sempre con saverio le facciamo una nella oddio ma anche il mazzo specchio sarebbe interessante però intanto facciamo una strategica poi ci facciamo una tripla strategica e infine equipendo la macchina volante e infine ci facciamo la specchio dai in realtà sono tutti utili in tutte e due a me il miniatore è una carta che a me proprio non piace per cacciatore non abbiamo un brutto mazzo non abbiamo affatto un brutto mazzo allora bella la sega notturna però c'abbiamo un doppio gigante che insomma lui ha spiegato sta spiegando un po' di lisir quindi a noi ci va più che bene eh avessimo avuto la la sfera infocata quello lì sarebbe morto in un colpo però così non è stato no l'arcere magico madonna ragazzi ci stempia quello lì ci stempia ragazzi bella difesa bella difesa vediamo se riesco a fare delle magie mamma mia è cacciatore piazzato male forse me lo uccide no il problema non è il miniatore perché il miniatore alla fine non è che ci fa tutti quei danni però no no se mi inizia a girare l'arcere magico guarda lo uccide l'arcere magico ragazzi allora lui non deve attaccarci torre per ovvi motivi becca ti sta sprangata ti è ora pensiamo lui eh caspita 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 ok cimitero non l'avrei usata vabbè gg per noi ha spiegato 3,5 che forse questa sua giocata mi permetterà di 3,5 recuperare in parte la partita che da questo punto eh se lo piazzavo prima era meglio se lo piazzavo prima era meglio ma ok piazziamo questo che mi toglie almeno gli scherettini e mi allontana loro dai un colpettino un colpettino ok un colpettino gli ha dato sudato sudato questo colpettino ma gli ha dato a noi ci importa questo ora ribadisco del minatore essenzialmente a me non me ne frega niente quindi se vuole attaccare attacchi pure ora piuttosto noi facciamo un aus con la macchina da volanti cerchiamo perfetto di ucciderci quel coso là dai un altro colpo ok ma da noi ci va più che bene sta cosa qui mettiamo questo qui e ancora il giri suo gigante non l'ho ancora usato questo è un problema in parte in parte perché abbiamo uno sguero che ci aiuta e poi soprattutto questo che madonna ragazzi verrà proprio l'inutilità in questo caso proprio è stato inutile in questo caso niente lui difende molto aggressive e dagli però un po' non l'hai tirato vabbè via ragazzi stavolta però il minatore ha rotto un po' le ball facciamo così facciamo cosa girati eh madonna me l'hai one shotati porco miserio buttami giù lui perfetto va bene è storto me l'hai one shotato forse ce la posso fare ora mi utterrà sempre il coso esatto imprevedibile quello magari se me lo ammazzi tanta roba palla di neve ok ci può stare ci può stare perché non ha più difesa boni 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 che forse si recupera guarda la macchina volante guarda la macchina volante guarda la macchina volante la macchina volante eh ragazzi mi sa che si è vinto mi sa che si è vinto e si è vinto mamma mia mamma mia ragazzi uff questa si è sudata complimenti per la partita adesso facciamoci le ultime due ok facciamoci anche la tripla strategica che per chi non lo sapesse è simile a questa solo che qui ti da due scelte una scelta la prendete l'altra va all'avversario per quattro volte sia per me sia per l'altro e si crea così il mazzo questo invece ti da tre scelte e te scegli solo la carta che vuoi le altre due verranno scartate per otto volte quindi qui scelerei la gabbia poi eh ho tornato a frecce mettiamo le frecce poi eh qui ragazzi penso a tripla sai lei stregone qui userei o la fulmine che ci possiamo anche permettere però la velena non è però le vene ci sono le frecce quindi pensandoci qui lui e infine la pirotecnica che mi piace molto come carta se non si fosse capito 3.9 insomma cos'è che fa pesante così ah però perché c'ho tante carte da 4 quindi io giustamente in media fa 4 allora lui ha perso uno degli esili mi sembra ah la strega madre madonna che ciulo madonna che ciulo ragazzi madonna che ciulo qui c'è andata di grosso e ciulo va bene va bene può andarci molto peggio qualche hit se l'è presa anzi se l'è preso scusate allora foto mi pensavo eh perché allora lui c'ha la siga madre c'ha la la congelamento e il cerbottaniere mh mi è sempre adatto tutta la mia mano no no la fornace no ragazzi che schifo no la fornace ok non mi dichi mi attivare la sua torre madonna per un centimetro ragazzi per un centimetro qui direi la veleno proprio proprio cioè piazzata meglio di così non poteva ragazzi quello vabbè ci farà delle hit però insomma vedete che la sua torre ora c'ha 1400 quindi siamo in vantaggio noi riforniamoci delle si e poi ripartiamo direi con o lo stegone o con la strega notturna ma dato che lo stegone lui ancora non sa che ce l'ha partirei con questo che invece sa che ce l'ha quindi strega notturna dago infernale pirotecnico qui delle frecce non le toglie nessuno strega madre e io ti piaccio la gabba per come che così mi attira anche un po' di quei maiali che insomma ora iniziano a rompere un po' le scatole ok ok eccolo muore però mi sa che viene trasmato un maiale ma vabbè ma vabbè ma vabbè dai che no dai uccidivo anche quell'altro si ora però inizio un po' a sfornare un po' troppa gente eh per i miei gusti ah questa non me l'aspettavo sinceramente no sbagliato scusate allora ah bella giocata dai 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 cerchiamo di recuperare cerchiamo di recuperare non tutto è perduto non tutto è perduto forza 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 veleno qua forza 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 e non muore quel cebotteniere forza dai frecce potevo anche evitarne vai ok ok buono buono lui c'era la domatrice mettiamo la gabbia goblin no ragazzi non ci credo non ci credo non ci credo cioè dai eh vabbè ragazzi in effetti doveva aspettare e piazzare la gabbia per la domatrice ok siamo a 23 minuti direi l'ultima partita la facciamo specchio per chi non sapesse la modalità specchio è mazzo uguale mazzo uguale quindi in po' parole chi se la cava meglio oppure chi ha più fortuna con questo mazzo qua non ho capito che è successo ok quindi il mazzo in questione è il mazzo specchio abbiamo questo mazzo sia io sia lui quindi vince ovviamente chi insomma chi avrà più fortuna all'inizio o chi lo so sarà meglio o chi speccano le desili insomma così però è interessante la questione di la zap perché insomma anche lui ad esempio c'ha i goblin io sto speccando le desili lo so però con questa mano c'ho carte difensive essenzialmente la zap questo e lui sono carte difensive che vedo di qualcosa proprio boh a girare il mazzo diamo la zap così abbiamo lui che è un po' più offensivo abbiamo il gole facciamo così vediamo come raggi probabilmente mi userà lui ipotizzo molto prevedibile sinceramente però magari se li buttano giù non li hanno buttati giù però però non ci va bene guarda pensiamo il gole tanto quello lì non mi tocca a torre doppio gole no dai ragazzi non ha senso lui se non sbaglio sta perdendo il desili che a noi questa mossa ci va anche bene perché poi quando cadrà il barilozzo lo facciamo così zack e ci va più che bene sta mossa no no non devi no ok ok una ceppa perché non va bene così ok stessa mossa mia zap no no aiutatemi loro ok forza madonna ragazzi eh noi dobbiamo oddio non è tanto male perché poi quando torna lui li butto in gran cavaliere se magari mi carica ancora meglio mettimi qualcosa dai no vabbè non è il cavaliere pam così bene il supporto della torre e il supporto della caduta doppio segone elettrico ah oh yes fuori uno perché non ha saltato ma what ma dove ha saltato non ha saltato ma sai in vantaggio noi lui ha usato il golem ok questi danni ce li possiamo anche permettere tanto non è che ci importa non potremmo usare il doppio golem ma non penso sia la scelta migliore in questo momento piuttosto farei questo questo eeeh zap no è vero eh vabbè in effetti sono stato un po' stupido dai eh sto spiegando l'isile ok se sono doppiati posso usare il gran cavaliere che gli dà una bella pacca intanto li stiamo facendo torre da notare 300 di vita non è tanto non è affatto tanto draghi d'ossa pronti per la difesa ok ads casca zap qui devo per forza tankare ragazzi per forza niente da fare pensiamo a questo per tankare cerchiamo di uccidere questo doppio gran cavaliere what allora cerchiamo di togliergli uno di loro che insomma stanno iniziando un po' a rompere le palle no vabbè ragazzi ma questa è pazzia questa è pazzia ragazzi io non so come difendermi da tutta sta gente eh probabilmente lui mi fa torre così eh molto probabilmente mi fa torre io non posso difendermi niente niente bella giurata eh doppio gran cavaliere anzi è troppo forte peccato vabbè non voglio dire 27 minuti quasi mezz'ora di video direi di concludere qui eh ci vediamo nel prossimo video con le due video sempre con Saverio un saluto e ciao a tutti